Salve, sono Antonio De Luca del Salonificio De Luca. Il nostro Salonificio nasce nel lontano 1940 da mio nonno, il quale faceva la produzione a livello artigianale solo nel periodo invernale. Siamo quasi a 900 metri sul livello del mare e c'è questa tradizione di stagionare prosciutti e salumi. Il nostro prosciutto di Faieto è fatto da cosce nate, allevate e macellate in Italia e la particolarità del prosciutto di Faieto è proprio il profumo, il microclima. Io sono alla terza generazione. Mio padre è colui che ha realizzato questo progettificio, ha portato fino ad oggi a questo livello il nostro Salonificio. Ora abbiamo aperto un nuovo stabilimento dove siamo passati dai 300-400 pezzi a 1300 pezzi a settimana. Questo è un progettificio di ultima tecnologia, però sempre con una produzione a livello artigianale, con la ricetta che utilizzava mio nonno 70 anni fa. Il Salonificio di Luca produce anche diversi salumi tipici pugliesi, di cui uno di questi è la nostra salsiccia casereccia, che è fatta in budello naturale. Questa è tutta carne selezionata e scelta con cura. L'ingrediente particolare della nostra salsiccia casereccia è il seme di finocchio, che dà un tocco particolare alla nostra salsiccia. Il Salonificio di Luca collabora con la Coop da ben 15 anni. ha sempre cercato di tutelare i fornitori locali, ha permesso di farci conoscere un po' dappertutto.